Dopo la pandemia gli aumenti da record con una bolletta da 11 milioni e mezzo di euro per l'ospedale Cardarelli di Napoli. Il costo dell'energia elettrica è esattamente raddoppiato ed ora il direttore Antonio D'Amore lancia l'allarme. Aumento impossibile, difficile far quadrare i conti e anche il bilancio. Non possiamo certo tagliare i servizi, spiega D'Amore, né smettere di utilizzare le fonti energetiche che sono indispensabili per il funzionamento di reparti e macchinari. Non posso spegnere un'attacca, avremo grossi problemi, spiega il manager dell'ospedale più grande del sud. L'allarme del direttore generale sia stato puntuale ed efficace perché stiamo parlando in televisione e soprattutto nel lagone politico di un problema molto serio, ma le ricadute sui servizi essenziali di cui speriamo ancora che la sanità sia valutata tale sono notevolissimi. Io credo che siamo ancora in attesa del piano nazionale sul risparmio energetico, ma ci avvieremo sicuramente a un problema e ad un periodo molto serio che probabilmente ricorderà 50 anni orsone per quelli che ce le hanno, che era il periodo dell'austerity. Si punta ad un piano di contenimento della spesa, anche aziendale, che potrà rivedere servizi non essenziali. Il buon padre di famiglia prevederà sicuramente un piano e quindi servizi essenziali, quali pronto soccorso e terapie intensive sicuramente non potranno avere un gran risparmio. Ma certo, nella rimodulazione di quello che è l'offerta dell'elezione o della medicina programmata, forse qualcosina si potrà fare.